Allora, eccomi qua, sono in diretta, quindi mi sto aspettando, intanto vediamo se riesco a vedermi, mi sto aspettando, buonasera a tutti, sto cercando, ecco, sto cercando, vediamo, eccoci qua, perfetto, allora ecco qua, abbassiamo il volume, ciao ragazzi, buona domenica, ciao Simona, allora tempo che aspettiamo, che vi unite a noi, a me, eccomi qua stasera, stasera riproviamo a fare, a avervi come ospiti, abbiamo trovato il modo, quindi ciao, allora Simona, già che sei collegata, si sente, si vede bene, perché questa sera partiamo subito con le vostre domande, allora Katia, si sente bene, ciao, ciao Laura, allora ditemi per favore tutti, buongiorno a tutti, si sente bene, perfetto, allora guardate, ciao Katia, ciao, bene, senti, allora, non vedo, non vedo allora, commenti, eccoli qua, eccoli qua, sono arrivati, allora, vi mando perché oggi facciamo quello che non siamo riusciti a fare l'altra volta perché ho capito il sistema, vi mando un link qui sotto nelle chat, ciao ragazzi, allora, chi lo clicca, allora, vediamo un attimo, chi lo clicca, accidenti, allora, un attimo, vediamo, inizio ad essere emozionata, copy, quindi ragazze, questa sera, audio e video, ok, ciao a tutti, buona domenica, io come al solito devo ringraziare Gaetano perché mi ha ospitato e mi ospita ogni volta volentieri in questo gruppo che è ormai la mia famiglia, è diventata, quindi grazie a voi di esserci, un grazie a tutte le ragazze che dietro le quinte operano affinché tutto questo avvenga, quindi buongiorno a tutti, allora ragazze, oggi vi invito, l'abbiamo provato a fare l'altra volta, non ci siamo riusciti, quindi oggi vi invito in diretta con me per andare un po' avanti a quello che è la mia lettura, quindi vediamo se ci riesco perché non mi sembra che ci riesca in questo, vediamo un po', allora, commenti, private chat qui non ci siamo, non ci riesco, allora, non ci riesco, non possiamo, allora, non ci rivediamo, se riesco alcuni di voi a invitarvi, niente, non ce la faccio perché in questo, con questo stream yard è così, che non è a pagamento, non ci riesco, quindi rispondo alle vostre domande come sempre, non riesco, non so perché, allora, ciao, ciao, buongiorno a tutti, ciao ragazze, pensavo di riuscire a invitarvi, invece non riesco neanche quest'oggi, quindi, Roberta, Sabrina, Sabrina, Annunziata, Giovanna, tutti, tutti, vi saluto tutti, quindi continuiamo perché adesso mi sono accorta che non riesco ad invitarvi, quindi, proviamo, faccio una prova, faccio una prova, allora, vediamo, con alcune, vediamo, inserisce amici, proviamo con Sabrina, allora, proviamo con Sabrina Coffetti, se riesco, che ce l'ho fra le amiche, se riesco a invitarla, mi piacerebbe invitarvi, ma non riesco, probabilmente c'è qualcosa che me lo impedisce in questo programma, quindi, possiamo fare come al solito, allora, benissimo, facciamo così però, siccome corre sempre l'ora molto veloce, io inizio a prendere le vostre domande, così subito iniziamo a rispondervi, allora, Katia, andiamo avanti e facciamo come al solito, allora, io vorrei parlare con te, domenica scorsa non sono riuscita, allora, Katia Di Cicco, benissimo, non riesco ad invitarvi, quindi facciamo come sempre, allora, Katia, dimmi pure che io scrivo la tua domanda e poi ti rispondo, però fammi prendere almeno altre dieci ragazze, allora, Valentina Pirodda, quale incontro, ah, beh, no, il futuro così, Valentina, purtroppo il futuro non proprio così, perché è meglio interagire tutte, allora, perché il futuro, andiamo nel passato, nei vostri blocchi, ormai mi conoscete, chi non mi conosce inizierà a capire cosa faccio nel frattempo, mentre sono con voi, non vorrei perdere nessun minuto, allora, Anais Amore, posso avere un messaggio per me dalla tua anima? Benissimo, allora, Anais, Anais Amore, messaggio da anima, benissimo, vediamo cosa ti dice, ok, grazie, se posso trattenermi, mi trattengo un pochino, ho messaggio da anima, vediamo, allora, Anais Amore, Sabrina Coffetti, anima, cosa dice? Prendo anche Sabrina, quindi aspettate, perché fra un po', Sabrina Coffetti, anima che dice, vediamo, anima che dice, Katia, percorso della mia anima, Katia De Cicco, il percorso della tua anima, allora, Simona sì, vorrei sapere cosa ha da dirmi anima, Simona presa, Simona sì, presa, vorrei sapere cosa ha da dirmi la mia anima, allora, cosa dice anima, vediamo, Stefania Geni, chiedi ad anima di aiutarmi a sbroccare la mia parte spirituale e togliere i blocchi, Stefania Orca, due domande, allora, Stefania Geni, vi saluto a tutti i ragazzi, grazie di essere qui, Stefania Gemini, chiedi ad anima di aiutarmi a sbloccare la mia parte spirituale, allora, vediamo se anima ti aiuta a sbloccare, sbloccare i tuoi blocchi, vediamo, eh, poi iniziamo, ho iniziato subito oggi, quindi, allora, se vuoi, Mari, potete allenarti, grazie, Katia, lo terrò presente, allora, Mara de Rodda, Mara, Mara da Rodda, Mara da Rodda, messaggio d'anima, va bene, vediamo cosa ti dice anima, poi, come dico sempre, allora, un messaggio per me se è possibile, Valentina Pirodda, certo, guarda, vi ho preso subito, abbiamo iniziato subito oggi, Valentina Pirodda, messaggio d'anima, perfetto, allora, Giovanna Picconi, vorrei sapere qual è lo scopo della mia vita, vediamo Giovanna Picconi, scopo della mia vita, perfetto, Giovanna Picconi ti ho preso, quindi c'è, allora, Ceci Max è un messaggio per me, vediamo, è qualcuno magari, allora, Ceci Max, messaggio e mettiamo il punto di domanda, Roberta Galluzzi, potrei sapere cosa devo riparare dal mio passato, Roberta Galluzzi, vediamo, sì, cosa devo riparare del mio passato, Roberta Galluzzi, va bene, ho una bella domanda, Galluzzi, rimanete in linea, perché tra un pochino inizio, Roberta, Stefania, grazie, ciao a tutti, cosa, dovete darmi tempo, allora, cosa devo riparare del mio passato, dal mio passato, passato, allora, vediamo un po', Deborah, Sonia, io ho diversi blocchi in tutti i settori della mia vita, niente va liscio, come dovrebbe, cosa devo imparare, allora, Deborah, molti blocchi, vediamo che cosa succede, Deborah, Sonia, Amato, facciamo così, accorcia, molti blocchi, perché, quindi molti blocchi in tutti i settori, allora, annunziata, strasso, quali sono i miei blocchi? Ah, eravate tutte preparate ragazzi, grazie, grazie, sono sempre molto felice di stare con voi, annunziata, strasso, quali sono i tuoi blocchi? Allora, vuol dire che ti senti bloccata e non percorri in avanti, venera, allora, venera, un messaggio, venera, salghi in beni, allora, venera, salghi in beni, poi non so se lo, ha un messaggio, messaggio da anima, messaggio da anima, benissimo, Lella Biffi, Luisella, allora, messaggio del mio angelo, allora, vediamo, allora Lella, io parlo con la vostra anima, però, quindi Lella, preferisco che mi parli direttamente e mi fai una domanda sulla tua anima, quindi che cosa mi dice anima, se ha un messaggio per me, perché molto, ciao Katia, un saluto particolare per te Katia, ti saluta, Katia Diamania, Katia Di Cicco, allora, Laura Vincenti, ciao Mary, sarei molto contenta di ricevere un messaggio dalla mia anima e mi ricordi qual è il messaggio della mia anima, ti seguo con affetto, allora, Laura Vicenti, allora, Laura Vicenti, vediamo se anima un messaggio per lei, anima, ha un messaggio, parlo e comunico con la vostra anima, quindi fate delle domande al vostro inconscio, importanti, Valentina, Antonella mi dice, posso avere un messaggio? Certo, allora, Antonella Cucciardi, ne prendiamo un'altra e iniziamo, poi se c'è ancora tempo continuiamo, Antonella Cucciardi, allora, messaggio, non ho bisogno del vostro data di nascita, messaggio da anima, messaggio da anima, vediamo allora Giovanni che mi dice grazie, Maria, Caterina, buonasera, ciao, buonasera a tutti i ragazzi, allora, Patrizia, ciao, mi sento bloccata perché Patrizia Cosentino e poi iniziamo, Patrizia Cosentino, vorrei un po' dilungarmi con le mie risposte, andare un pochino più a fondo, Patrizia Cosentino, mi sento bloccata perché? Mi sarebbe piaciuto avervi in diretta perché comunico con voi, ho le risposte, quindi buongiorno, sono Anna, la mia anima, cosa ha da dirmi, la vita da anni ha dolore, tanto dolore, prendiamo Anna, Moretti Anna che ha tanto dolore e poi iniziamo, ecco vi prenderei tutte, risponderei a tutti, allora, Moretti Anna, tanto dolore, perché? Tanto dolore, perché? Allora, quindi appoggio il telefono, non riesco a leggere i vostri messaggi, però poi magari se avete modo di dirmi se vi sentite il feeling, se vi sentite appartenenti alla risposta, se la risposta vi appartiene, me lo lasciate scritto perché poi io li vedrò, li leggerò, se non oggi, se riuscirò a leggerli domani. Perché sto facendo un esperimento da vigile, perché fondamentalmente di solito io sono in uno stato ipnotico, di autoipnosi, quindi ormai mi conoscete tutti. Allora, Katio Di Cicco, percorso della mia anima. Senti, ieri mi hanno fatto tante queste domande e fondamentalmente il percorso della tua anima allarga molti, perché ieri lo stesso mi hanno fatto questa domanda e vedevo che avevo difficoltà ad avere risposta da anima, perché il percorso della vostra anima e io ho la tua anima Katia qui davanti a me, è fondamentalmente vasto, ampio, perché in questa vita di reincarnazione quando si scende si hanno duemila strade da poter prendere, quindi quando mi sono trovata a sentire la risposta di anima, il percorso della mia anima, lei non ha saputo rispondermi con chiarezza, mettendomi in uno stato di confusione. Perché? Perché per esempio Katia in questa visualizzazione che ho della tua anima, il percorso della tua anima mi fa un inchino, mi fa vedere che la gestualità mi esprime che il percorso della tua anima è trovare la gentilezza, l'armonia, l'amore, cioè mantenere la sua natura, quindi il percorso della tua anima, come in realtà il percorso di molte anime, di tutte le anime, è quello di essere nell'amore, quindi nella tua in particolare, lei mi fa vedere non solo questo inchino, però forse per te è di appartenenza e anche ha delle vesti molto femminile, ha questo vestito lungo, quindi questo inchino lo fa con una certa femminilità, quindi ritrovare l'armonia con questo corpo, perché il percorso della tua anima in questa vita, oltre ad essere nell'amore come tutti lo dobbiamo fare nel nostro percorso di reincarnazione, nel tuo in particolar modo è unire la tua femminilità, la tua gentilezza, il tuo modo di essere con questa pelle, con questa cellula, come se lei stesse stretta in questo corpo, quindi è venuta per fare un percorso di amore, di gentilezza, di armonizzarsi insieme a questa reincarnazione, ma deve allinearsi, amalgamarsi con questo abito che è il fisico, la materia, quindi quando mi fate le domande sul percorso della vostra vita, siate un pochino più precisi, Katia alla tua anima mi ha fatto vedere di dover esaltare molto questa, ripeto questa gentilezza, questa femminilità, non che tu non lo sia gentile, però equilibrare il maschile e il femminino dentro di te e andare d'accordo con la fisicità, quindi con la mente è un conto, ma anche con questo corpo, poi mi dirai perché mi ha detto questo magari e se te lo sente affino. Allora, messaggio di anima, Anais Amor, messaggio d'anima, senti, lei veramente è un po' sorpresa che tu l'abbia presa in considerazione e mi dice così un po' indispettita, è sdraiata, sta con le mani così insomma, sai come quando qualcuno non fa nulla, fa un niente e mi dice ma come adesso vuoi il mio messaggio, come se tu non stessi molto ad ascoltarla, ci sono stati degli eventi, degli eventi della tua vita che ti hanno messo un po' in conflitto con le decisioni che ha avuto anima, come se per un periodo della tua vita eri istintiva vuol dire anima, sentire proprio l'esplosione delle nostre capacità sensitive, extrasensoriali, lo hai fatto per un po', però ti sei trovata un po' in disequilibrio, quindi ha preso le redini la tua mente e quindi anima si è messa come in vacanza, quindi lei dice il messaggio di anima è ritornare ad ascoltarla, quindi partecipare ad eventi emotivi con più grinta, con più forza, lasciando un po' calmare la diffidenza, come se fossi diffidente, ecco perché la tua parte mentale gestisce tutto e quindi è sempre un po' impaurita, diffidente degli altri e fa mettere in ferie la tua parte animica, quindi lei è contenta che l'hai prese in considerazione e il messaggio rialzandosi in piedi che mi dà di metterti più in contatto con lei, di ascoltarla di più, di fare agire, di agire un pochino, questo istinto che a noi ce l'hanno un pochino soppresso invece è anima che vuole esplodere, vuole venire fuori. Molto bella, hai un'anima giovane, hai un'anima non giovane perché hai poche vite fatte, esperienze di vita, hai un'anima brillante, attiva, quindi è importante che tu la lasci fare, lascia fare a me, mi dice la tua anima, quindi lasciati un pochino andare, rilassati. Allora, Sabrina Coffetti, anima che mi dice? Allora, anima, la tua anima è un po' al buio, mi viene come se fosse dentro, entra dentro, pensa che immagine pazzesca che mi fa vedere Sabrina, entra nelle stanze, immaginate che sei dentro una casa e in tutte le stanze in cui entra, sono buie, accende la luce, come se ha un grande desiderio di esserci, di vedere, quindi Sabrina non mi sorprenderebbe se tu avessi acceso adesso nei tuoi momenti la curiosità di andare oltre perché lei vuole esplorare, quindi anima ti dice di avere delle informazioni, di prendere informazioni, di attivarsi e di fare luce in tutta questa oscurità, si vede che questa luce vediamo perché è come se avessi scelto l'isolamento, cioè il metterti in disparte, dare la ragione agli altri, di essere sempre con il cuore, perché lei c'è, lei è venuta vigile, entra in questa casa, accende la luce, però è ora di fare basta, di reagire ed emergere. Sei molto forte Sabrina, anche se hai timore, però sei razionalmente forte, hai una mente lucida e un'anima presente, quindi è ora di mettersi in gioco, adesso non so bene che cosa puoi fare nella vita, che cosa stai facendo, però penso che anima ti dice, questa immagine che mi viene è che accende le luci è un segno di iniziare a fare chiarezza in questa ombra in cui sei vissuta, per timore, per educazione, però no, ci vuole un po' di grinta. Ciao ragazzi a tutti, io non posso salutare perché sono concentrata qui, poi scrivetemi se queste cose che sto dicendo vi appartengono. Stefania Cara, che sei sempre qua con me in tutte le mie dirette, vediamo se anima ti aiuta a sbloccare, hai i tuoi blocchi. Senti Stefania, sei in un momento dove mi vieni davanti allo specchio, pensa come mi è arrivata la tua anima, mi arriva che sei davanti allo specchio e sei in continua critica, in continuo brontolio, come se ce l'avessi oltre che col mondo intero, un po' con te stessa, quindi questo ti blocca perché il fatto di avere davanti a te lo specchio e quindi di pensare a te, le cose che hai fatto, a metterti in discussione, questo specchio ti blocca, ti ferma, quindi io farei così Stefania nelle tue meditazioni perché stai cercando tanto, stai inserendo tante informazioni dentro la tua anima, quindi io penso che sia arrivato il momento di togliere questo specchio di fronte a te, di smettere di autocriticarti, lo togliamo proprio adesso che siamo connesse tutte e due e di vedere il mondo con altri occhi. Inizia, anima ti aiuterà a sbloccarti perché è ora che tu lo faccia, lei ha il desiderio di emergere, di uscire, ma non solo di uscire da te stessa così, ma di uscire proprio dalla tua casa, ovviamente adesso siamo un po' impicciate, però mettiamolo in primavera e iniziarti a confrontarti, smettendo di criticare te stessa e quando ci si mette un po' a criticare si entra anche in una sorta di vittimismo, è inconscio sai, è una cosa che noi facciamo inconsciamente, però fermiamo il tempo in questo momento, in quel momento, quando entriamo in quella vibrazione, quindi ti suggerirei di togliere, lo abbiamo tolto questo specchio da qui davanti, ti ho aiutato con le mie mani energetiche, con le tue mani energetiche abbiamo tolto questo specchio di fronte a te, lo abbiamo girato, questo specchio non va più bene e ti accompagno fuori, ti accompagno a vedere tutto da un'altra prospettiva, quindi immaginati un luogo dove tu vedi, non so per esempio dall'alto, sposta, scendi da questo luogo, sali in un altro luogo, sempre in altro e vedi tutto da un'altra prospettiva, solo così riuscirai a sbloccare questo, uscirai da questo limbo perché non sei solo bloccata, ma hai creato un limbo dove tu sei immersa dentro e non vedi neanche più fuori, quindi un grande colpo di reni e fuori, siamo uscite fuori, è allegorico uscire fuori da casa, dai continenti, da tutto quello che sono le nostre dimensioni, ma è quello attivare la tua carica vitale, il tuo potere, attivare il tuo potere, è molto importante, grazie. Allora, Mara De Rodda, grazie Stefania, spero di esserti stata d'aiuto, poi mi lascerai il tuo messaggio se ti senti affine a queste informazioni che Anima ti ha detto. Mara De Rodda invece mi chiede anche lei il messaggio di Anima. Allora, Mara, la tua anima è strana perché a volte allegra, a volte piange, a volte si colora di rosa, a volte cambia colore, è un po' stanca la tua anima di fare questi cambiamenti, di seguire molto la tua parte razionale, ha bisogno di odori, ha bisogno di assaporare quello, vorrebbe calmarsi e assaporare un po', probabilmente hai una vita un po' di fretta, certo la facciamo tutti questa vita di fretta, però questo continuo cambiare colori, cambiare luogo, un senso di nervosismo ha la tua anima, quindi il messaggio dalla tua anima è di calmarti, di prendere un po' di tempo per te, per le tue cose, vorrebbe riabbracciare un po', essere coccolata, essere abbracciata, questa frenesia la sta esaurendo, quindi il messaggio di anima è calmarti, mi dispiace non poter leggere le conferme di quello che vi dico, avervi qua con me, lo faremo al più presto, quindi calma, tranquillità, equilibrio, ritrovare il tuo equilibrio, perché sai questo continua a modificare i pensieri, mettere un po' tutto in discussione, riniziare così, la sta oltre che staccando e innervosendo, hai un'anima molto sensibile comunque, sta soffrendo, lo soffriamo tutti in questo momento particolare di morte e di dolore, però tu fatti coraggio, ti entra tanto peso nel terzo chakra, sento questo blocco come se tu ti prendessi le colpe, le paure di tutto il mondo e invece anima ha bisogno di rilassarsi, di ritrovare la sua quiete, Mara mi dirai se ti appartengono queste parole, queste cose che il messaggio di anima che ti ha dato. Allora Valentina Pirotta ha messaggio dell'anima anche per lei, Simona sì, è rilista, vediamo dove ti ho messo, Simona sì, cosa dice anima? Simona l'ho già parlato e sono già andata avanti, magari lo sentirei nella registrazione, ora poi io sto andando avanti e quindi già mi sono dimenticata cosa dice, però ci ritornerò all'ultimo. Giovanna, allora Valentina Pirotta, messaggio da anima, Valentina siete qui o spero che rimanete qua con me perché io vi ho preso tutti, parecchi questa sera perché abbiamo iniziato subito, messaggio da anima, Valentina. Allora Valentina, tu hai un carattere molto forte, hai un'anima molto combattiva, anche se non lo sai, te lo dico io adesso, lei mi viene con una rigidità molto importante, sa di essere qui per fare un po' d'ordine, anche l'ordine in casa, è come se fossi in accordo con lei, sai, anima è contenta di stare in questo momento, in questo particolare momento, solo che questo carattere così forte, così di potere, la tua anima, a volte è un po' limitata, mentre Mara è molto agitata così, Valentina, l'anima di Valentina è un pochino come trattenuta, però qui questo trattenere, Valentina, la tua anima si trattiene, cioè lei è pronta, ha come un'armatura, non un'armatura, però ha questo bastone che l'aiuto a camminare, è forte, però è un po' bloccata, lei con sé delle paure da una vita precedente dove in un certo senso ha vissuto un po' di caos, vediamo perché questa paura, è stata molto anima, sei molto anima, c'è questo potere, ecco non ha paura, è che qua non riesci a trovare, poi me lo dirai, il sentiero per esprimere il suo potere, devi avere fiducia Valentina di quello che sono le tue capacità, sai non a caso entri in questi luoghi, in questi gruppi dove si parla di spirito, di anima, dove siamo tutti molto spirituali, perché vieni da una vita importante dove hai creato caos e dove sei stata e hai creato caos però positivo a mente e qui ti sei trovata un po' più bloccata, sei nata e cresciuta in un momento dove questo tuo potere viene contrastato dai condizionamenti esterni e lei lo sente, però è lì pronta, non è stata mai comunque abbattuta, la tua mente razionale sta cedendo il passo a lei, fidati del tuo istinto, quindi fidati di quello che ti dice anima, perché troverai il tuo sentiero dove esprimerai le tue capacità, sei integra, sei luminosa, non rimanere in casa da sola, ma a parte questo momento è una metafora sai quello che dico non rimanere in casa da sola, cioè agisci, crea le cose, devi entrare nel fare perché hai poteri, hai poteri medianici, hai poteri di interagire e senti empaticamente con le persone e hai un'anima molto carica, quindi in un certo senso deve sfogare. Non mi sorprenderebbe se tu magari cammini, passi e ti cadono le cose dalle mani, perché? Perché hai una vibrazione molto forte e quindi quando ti muovi a volte ti possono accadere queste cose, che uno magari dal di fuori dice accidenti, non sta attenta, invece no, è la tua carica di anima, ma tu questo lo sapevi già. Valentina è molto importante sentire se l'anima senti che ti appartiene a queste cose, se ne hai il sospetto, se non lo senti appieno, sentiti perché è questo che anima ti dice. Allora Giovanna Picconi, scopo della mia vita? Simona sì, ti ho risposto poi dopo magari se abbiamo tempo ritroverò a risponderti ancora. Allora Giovanna Picconi, scopo della mia vita? Allora Giovanna Picconi, lo scopo della tua vita? Ognuno di noi viene per un percorso, per un compiere, per un fare, vediamo Giovanna Picconi dove mi porti? Hai molte vite in sofferenza, dove hai vissuto, hai faticato per emergere nelle vite di reincarnazione che hai fatto, sei stato un negoziante, un commerciante, sei stato anche povera, molto maschio, mi vieni molto maschio nelle altre vite, in questo scopo della tua vita oltre che ritrovare stress e unire anima, mente e spirito, vivere con soddisfazione questa reincarnazione. Sei portata a stare con la gente a portare, la tua anima quando sta bene sorride tanto e allegra, quindi è come se nel tuo stato positivo, quindi di connessione con l'universo, alleggerisci le anime, rallegrandole, sai, sei, non so quanti anni hai ma sei stata molto gioiosa, mi verrebbe da dirti che devi portare gioia in questa vita, il percorso della tua vita, purtroppo ti ha un po' modificato queste vite di reincarnazione e regresse perché ti ha fatto faticare molto per essere te stessa e per trovare leggerezza in questa reincarnazione, non arrabbiarti la tua anima, è un po' arrabbiata di questa prigionia nella fisicità, però troverai la tua strada di leggerezza in questa vita. Mi viene come se quando tu stai con i bambini li fai tanto ridere, li fai giocare, lo scopo della tua vita per dirti come vedo la tua anima, la tua anima si è fatta vedere in un vasto campo, in un vasto prato, una prateria piena di fiori, tu in mezzo a tanti bambini, quindi è come se porti la gioia, porti l'allegria quando sei in positivo, in questo momento sei un po' arrabbiata perché anima, non ha questa brillantezza che è tua di potere, però sono un po' gli eventi della vita, non farti prendere, butta tutto indietro, non ha l'aria, però supera questo ostacolo, distaccati da questa fisicità e torna a librarti proprio, a trovare questa leggerezza perché la tua forza è l'allegria. Poi mi dirai Giovanna, perché quando sei felice brilli tutti, siamo felici, vibriamo ad una vibrazione, ma tu hai una risata fantastica, sei molto bella, molto bella come anima. Allora Ceci Max, messaggio, allora Ceci Max, hai messo, pensa come mi arriva la tua anima, come se… allora vediamo un po', vi saluto a tutti, siete fantastiche, grazie per essere con me. Allora la tua anima, Ceci Max, mi arriva ironicamente come se fosse in un banco di scuola, è come se l'avessi un po' bacchettata, la tua parte razionale che ancora non riesce proprio a calmarsi e fosse lì a prendere, come se l'avessi messa un po' sotto insegnamento, è molto attenta, siete in connessione perché sei riuscita a equilibrare mente, corpo, mente, anima e spiritualità, lei sta prendendo molti appunti di tutto quello che ha fatto fino adesso insieme a te, è un pochino da più addormentata, quindi penso proprio che sei ad un buon punto, felice, il messaggio per te è che sta andando tutto bene, è in attenzione, quindi è in attenzione e in collegamento con la tua parte razionale e con la tua spiritualità, c'è armonia fra voi tre corpi energetici, è molto molto bello, brava perché stai facendo un lavoro di ristrutturazione molto molto importante e positivo. Allora Roberta Galluzzi, cosa devo riparare dal mio passato? Bella domanda, Antonella Cucciardi, ce l'ho, ci sono, abbiamo tempo allora, dopo di tanto, Antonella non ti dimentico perché ti ho, allora senti cosa devo riparare? Abbiamo iniziato subito, ho preso veramente tante ragazze, devo riparare dal mio passato, senti, tu dal tuo passato arrivi, pensa, mi fai vedere, allora quello che pensavo io è vero, sentite cosa mi dice questo, ci sono per portare gioia e allegria che mi circonda, grazie Mary, sì è proprio vero. Allora senti Roberta è molto importante quello che vedo perché è molto particolare e non è strano che tu mi abbia fatto questa domanda, vieni in ingresso in questa vita dal passato, pensa con una corda intrecciata nelle caviglie, come se ti portassi molti intrecci da questa vita passata, dalle vite passate. C'è una cosa particolare che visualizzo, sono al momento in cui tu decidi di venire in questa vita, cioè si decide che tu debba scendere in questa vita e non eri così contenta, quindi entri in tutte le tue reincarnazioni come se andassi un po' di fretta, sai ognuno abbiamo il nostro compito come abbiamo visto prima, quindi tu entri in questa vita, in queste vite scendi dicendo, sai come quando si pulisce la casa che dici questo l'ho fatto, questo l'ho fatto, questo l'ho fatto e fai tutte queste vite in modo pazzesco di corsa, questo l'ho imparato, questo l'ha imparato, questo l'ha imparato, quindi Roberta devi riparare un po' tutto, lo puoi fare anche da sola con grande intento e intenzione, tra virgolette perché l'intenzione è molto importante, ritornare nei flash di esistenze che ti possono arrivare, se potrai fare un'ipnosi regressiva tu e mettere ordine, cioè allungare questo tempo breve che tu hai fatto, tutto di corsa, tutte esperienze di corsa, allungarle, prendere con calma quello che ti è stato positivo e il negativo buttarlo via e mettere un pochino d'ordine perché che cosa è successo? Tu correndo, correndo così queste corde delle tue vite ti si sono agganciate ai piedi per farti, ti vogliono far calmare e tu invece ti sei intrecciata, non mi sorprenderebbe che in questa vita tu fai tutto un pochino così anche come esperienze, non di fretta però non le prendi a pieno, al 100%, sei molto confusa in questa vita perché non riesci, mi giri un pochino, giri intorno e hai tutte le strade dei tuoi percorsi aperti, sei la linea temporale del passato è sulla sinistra e la linea del futuro è sulla destra, tu hai tutte le linee a forma di stella intorno a te, come se ce ne fossero tante di strade, quindi mettiamo tutto verso la linea del passato, metti ordine e calma nelle esperienze che tu hai fatto, anche se solo lo pensi, anima lo sa e quindi butti via quello che non ti serve più e porti con te l'esperienza importante, riparare dal tuo passato quindi la fretta di vivere e di ritornare a casa, non sei scesa contenta, è per questo che ti senti non adeguata in tutti i posti dove stai, ti senti fuori del tempo perché sei scesa in un tempo e in un luogo dove non volevi essere, però ormai Roberta siamo qui, quindi dovrai sicuramente riorganizzare con piacere il pensiero di stare qua, lo puoi fare aumentando il tuo amore dentro il tuo cuore anche se sei una persona buona e permettere agli altri di amarti, solo così si calmeranno le tue frette, il tuo desiderio di tornare a casa e ritroverai l'armonia? Una bella domanda, non l'hai fatta così a caso perché adesso in questo momento così pazzesco dove queste dimensioni le abbiamo tutte insieme, hai percepito che c'era qualcosa da riordinare, da riparare, hai detto bene, riparare questo stringere tutto dentro uno spazio troppo, grazie a risuonare anche l'armatura, in questo spazio troppo stezzo. Roberta mi raccomando concentrati perché riuscirai a liberarti e armonizzarti e rimanere qui in questa vita almeno per fare qualcosa con calma e prendere le informazioni che ti necessitano per portarle a casa. Allora Deborah Sonia Amato, io vedo il tempo ma abbiamo ancora un po' più di tempo quindi risponderò a tutti. Allora Deborah Sonia Amato, molti blocchi perché? Allora Deborah senti tu, la tua anima mi arriva un pochino scura, mi collego, mi porta ad un evento dove in un certo senso nella tua crescita di questa vita ti sei sentita come invisibile. Da quel momento in poi tu hai abbassato le tue frequenze e non è che ci sono i blocchi nella tua vita, ti sei bloccata tu con una sorpresa di non trovare le emotività, le emozioni, i sentimenti esplosivi che invece conosci per essere anima. Quindi dovresti lavorare su degli eventi che ti sono capitati nei momenti da adolescente, da piccolina, a un certo momento ti vedo crescere un anno, due anni, tre anni, quattro anni, a cinque, sei anni, adesso immaginati questa anima così, ti vedo bloccata. Anima mi fa vedere questo e da lì ti sei bloccata tu e bloccando, ti hai bloccato tutto come se un fermo immagine di tutta la tua vita, quindi butta fuori questo rospo di questa emozione, ma anche piccola perché se eri a cinque, sei anni potrebbe essere non una cosa eclatante, ma dovremmo andare a vedere che cosa è successo in quel momento e buttarla fuori, come se dovessi vomitare, butta fuori il rospo, è un famoso detto dei nostri nonni che ha un senso molto importante. Deborah, spero di esserti stata di aiuto, mi raccomando perché la tua anima è un po' oscura, ha una bassa vibrazione, quindi hai bisogno di aumentare questa vibrazione e ritornare in luminosità per risolvere questo problema. Reagisci in un certo senso e vai a vedere che cosa ti ha scioccato un trauma di quell'età. Allora, Annunziata Strasso, quali sono i miei blocchi? Annunziata sono arrivata Vanessa, Laura, Antonella, Patrizia, velocemente ci sono per tutti. Allora, Annunziata, quali sono i tuoi blocchi? Annunziata Strasso, quali sono i miei blocchi? Senti, sei una dominatrice, Annunziata, la tua parte razionale domina un pochino su tutto, ti sei dovuta difendere, hai dovuto emergere e quindi hai aumentato il comando della tua parte razionale energetica sforzandola un po' troppo. In questo momento i tuoi blocchi sono dipesi da una scarica energetica, sei scarica, ti sei scaricata perché che cosa succede? Mentre l'anima è immortale, quindi ha dei momenti giù e su, però si ricarica con un buon evento, una buona emozione, la parte razionale se è messa sotto stress scende e fa fatica risalire, quindi i tuoi blocchi sono dipesi da una forte scarica razionale e ovviamente una volta che sei scarica razionalmente anche la tua anima fa fatica a riprendere un pochino il passo, ascoltala un pochino di più questa tua anima perché ha tante cose da dirti e da fare. Tocca il prato sai, mi porta che tocca l'erba così come se avesse il desiderio di ritornare a riacquisire delle energie naturali, di ritrovarsi in mezzo alla natura in un certo senso, mi porta in mezzo ai boschi, è come se questa mente razionale l'avesse veramente affaticata, calma la tua mente, molto importante, sai sei nervosa, arrabbiata, sei così un po' tutta tesa e invece l'anima mi porta a passeggio, mi porta a spasso, mi porta fuori, ti dico questa erba quindi ha qualche cosa a che fare con la tua scarica energetica, medita, fai dei movimenti un pochino di più, cammina, ossigena il tuo corpo, quindi ossigena anche il tuo cervello proprio, dai ossigeno affinché ritrovi, ridai spazio alla tua anima all'interno di te. I tuoi blocchi quindi sono la tua scarica energetica, razionale, ovviamente dopo tutto intorno a te va controcorrente, non c'è armonia, si blocca tutto, è come se dovesse oliare questo grande motore che gira intorno a noi. Allora Venere, Venere, saliam bene, messaggio d'anima, allora Venere, parli tanto questa anima, parla, parla, perché io devo fare, mi dice Venere, senti tu hai molte anime che ti aiutano e ti sollevano, sei una chiacchierina perché mi parli di tanto, mi viene che lei mi dice questo, proprio lei mi parla, tanto è vero che parla tanto e mi dice, lei deve fare un importante cambiamento e lei lo sa, ma non ne trova il coraggio. Adesso è difficile che anima mi parla in questo modo, hai un'anima quindi che sa quello che vuole ed è molto pronta diciamo, è pronta a fare questo cambiamento perché lei mi dice basta fare la vita degli altri, io non lo so perché la tua anima mi dice questo proprio a parole, sei un'anima che parla ed è come se avessi accettato tanto silenzio che non ti appartiene, quindi questo cambiamento che è in atto o che lo hai pensato o che ce l'hai proprio dentro di te, devi dargli retta, non so che cambiamento è, non riesco a vederlo, ovviamente non sono concentrata, non sono in uno stato ipnotico, sono da vigile e quindi vi do il messaggio che mi arriva. È molto importante perché hai un'anima che ha bisogno di parlare, di parlare, di parlare, quindi immetti dentro te informazioni affinché il tuo quinto chakra si sblocchi e riesca ad esprimere con più facilità questo chiacchierare, questo interagire perché verranno fuori delle argomentazioni molto importanti, hai la capacità con il tuo parlare perché anima è così chiacchierina di entrare dentro i cuori delle persone. Quindi penso che ti arrivi il messaggio che tu sappia cosa lei ti deve dire e interagisci con le persone, mettiti a parlare, ritorna in mezzo alla gente e cambia, questo cambiamento fallo, poi mi dirai Venere se ti appartiene questo messaggio di anima, molto forte. Allora Laura Vicenti, anima ho messaggio, è in armonia, mi dice che tutto sta andando bene in questo momento, pensa mi arriva con un cuscino, quindi c'è armonia nella tua vita, non perché lei abbia desiderio di essere, che è stanca di andare a riposare, però probabilmente il fatto che sta ovunque si mette può mettersi comoda, quindi è come se fosse contenta di questa nuova comunicazione che ha, interazione che ha con la tua parte razionale e con la tua parte spirituale. Hai fatto un'integrazione con la tua parte spirituale molto importante, non so che cosa è accaduto negli ultimi periodi della tua vita, però la tua spiritualità decodifica esattamente e con molta cura le esperienze che fai trasmettendole alla tua anima, è molto tranquilla perché se lei va in giro con un cuscino vuol dire che dove si mette può addormentarsi e rilassarsi, quindi non c'è tensione e non c'è lite fra i tuoi corpi, complimenti perché il tuo percorso che hai intrapreso lo stai portando avanti con molto impegno e molta soddisfazione. Allora, rispondo ad Antonella, a Patrizia e a Moretti Anna perché aveva tanto dolore. Antonella Cucciardi, messaggio da anima. Antonella Cucciardi, allora senti Antonella, la tua anima è particolare, è particolarmente smarrita, mi viene arrabbiata e poi si allontana. Allora Katia ha risposto Mary, Katia, Damiana, grazie mi riconosco, Venere mi dice, bene sono contenta, non ho tempo perché vado di corsa, è vero che mi hanno dato un po' più di tempo, ma da me è troppo tardi e devo correre via, rimarrò però un po' più di tempo. C'è stato il fuso orario, quindi semmai mi potrò collegare un pochino prima. Allora Antonella mi dice, messaggio di anima, allora senti Antonella, ti stavo dicendo che la tua anima mi arriva, davanti molto arrabbiata e poi, fugge via e va correndo come se ci fossero delle colline, come in un certo senso, un senso di isolamento, di stacco, fugge via, ecco mi arriva tutta arrabbiata e poi fugge via lontana. Il messaggio non è così proprio felice, come se questa situazione che sta vivendo la faccia la faccia la faccia la faccia correre via, a un momento vorrebbe andare via. Il messaggio dell'anima mi dice che vuole andare via, vuole andare via quindi questo pensiero delle colline, delle montagne, è come se lei avesse il desiderio di prendersi un po' di tempo, di isolarsi, sai gli eremiti che vanno un po' a riflettere e a riprendere la loro considerazione, hai bisogno di questo, quindi esci un po' dal giro, dalla routine che stai effettuando, non fuggire in montagna come lei mi fa vedere e calmala, placala perché è un po' arrabbiata. Evasione mi viene, è come se lei avresse bisogno di evadere da tutto quello che sta vivendo, è forte perché mi fa, mi arriva alla gola come un forte desiderio di pianto, quindi oltre alla rabbia c'è il pianto, qualcosa non va in questo momento Antonella nella tua vita, metti delle maschere, provi a coprire, provi a non pensarci, però poi viene fuori che vorrebbe andare via, quindi questa evasione. Prenditi un momento, creati un tempio per te, un momento dove non so, vedo i colori nella tua vita, non so se disegni o pitturi, che cosa fai, però hai bisogno di essere, di tirare fuori l'artista che è in te, quindi la parte creativa di creare per rilassarti, ecco il tuo messaggio di anima, un po' arrabbiatina, è un po' scontenta, questa fuga così non mi trasmette nulla, poi ti dico questo nodo alla gola come un senso di pianto, non so, prenditi uno spazio per te, un luogo sai, perché il fatto che lei vada via mi fa intendere che ha bisogno di un luogo tutto tuo, quindi devi ricreare lo spazio per lei. Patrizia Consente, sei molto buona, dai il tuo tempo, i tuoi spazi per gli altri e invece devi prenderli per te, ce n'era un'altra, sai un po' come te che si prodiga, prodighiamoci per gli altri ragazzi, ma sappiate che anima ha bisogno di noi, e ha bisogno di ripristinarsi, quindi ogni tanto ecco perché si meditava, perché nella meditazione ci ritroviamo, quindi yoga, qualunque azione per ritrovare noi stessi. Allora Patrizia Cosentino mi sento bloccata e poi c'è Moretti Anna, Patrizia Cosentino mi sento bloccata, allora Patrizia Cosentino ti senti bloccata, senti dentro di te c'è tanta paura, c'è il tuo terzo chakra, il tuo secondo chakra, quindi le ovaie, bloccati, chiusi da una paura, una paura che non ti appartiene a te, è come se in questo momento avessi respirato tutto questo alone che c'è in giro, poca autostima, Patrizia questa paura la dobbiamo buttare via, una paura del domani, è come se avessi paura di tutto, a parte questo adesso che c'è questo covid, quindi paura di quello, di quell'altro, no c'è una paura dentro di te che mi si collega, sto cercando di vedere da dove viene questa paura, è come se ci fossero tante persone intorno a te, quindi il pensiero della gente, probabilmente non so qualche ragazzo o anche i tuoi genitori che hanno un po' infierito su questa poca autostima e quindi tu ti sei indebolita, sei diventata fragile e con questo timore, chiamiamolo, ma è una grande paura che adesso buttiamo via, tu non stai progettando, non c'è linea del futuro davanti a te, quindi non avendo la linea del futuro davanti a te, ma non perché non ci sono prospettive, adesso è un momento difficile, ma perché non la stai con speranza costruendo, ti sei fatto un burrone, quindi non c'è neanche la strada per costruire sopra il tuo percorso, quindi dobbiamo ricostruire questa strada perché il tuo futuro c'è come ce lo abbiamo tutti noi e buttare via questa paura, non avere paura dei giudizi degli altri e non farti entrare dentro di te i giudizi degli altri, tu sei un'anima forte, sensibile, sei estremamente sensibile, ma questa sensibilità è un dono che tu devi portare in mezzo alla gente, in mezzo tempo, ma percorrere e iniziare a progettare la linea temporale del futuro, qualunque essa sia, i desideri diventano realtà, non è solo una fiaba, ma se noi non desideriamo non creiamo la nostra realtà e noi siamo di creatori del nostro futuro, quindi prendiamo con le tue mani energetiche Patrizia, questa paura che c'è dentro il tuo terzo chakra, nelle tue ovaie perché è molto importante, le ovaie è il nostro luogo di creazione dove noi creiamo la vita e alleggeriamola da questo peso che è la paura, la paura del tutto, la paura di non farcela, la paura di non essere all'altezza, prendilo con le tue mani, apriamo un portale dimensionale e buttiamo questa sfera energetica di bassa vibrazione in questo portale, Patrizia ascoltami perché sei in un momento molto particolare, chiudiamo questo portale dimensionale, riempiamo questo spazio con autostima, con coraggio, con forza di volontà e con azione perché è molto importante che noi mettiamo l'azione nel tuo fare, nella tua forza, tutti di noi abbiamo questo potere, tu lo hai, sei più sensibile di un'altra anima ma questo ti rende ancora più anima, ancora più umano, quindi creiamo a questo punto la linea temporale del tuo futuro e ora in questa linea temporale del futuro tu mettici tutti i tuoi desideri, tutto. Allora, Patrizia poi mi scriverai se ti senti di appartenenza, se questa paura che ti soffocava lo senti veramente, ora non c'è più, l'abbiamo tolta. Moretti Anna, tanto dolore perché? Allora, Moretti Anna, scusa ho letto il tuo, allora Antonella dice grazie mille, così come descrivi mi sono sempre presa cura degli altri, ho sempre dato e ancora oggi è così, rinuncio a me perché non mi rimane tempo ma non sono stata apprezzata, lo facciamo vedere a tutti il tuo commento mentre io penso ad Anna perché è tanto dolore, purtroppo noi portiamo, senti Anna mi arrivi con un carico sopra le spalle come se fosse davvero questo dolore una vera croce, c'è morte, c'è malattia intorno a te e c'è tanta disperazione, la porti con te è come se fosse non di questa vita, è come se non ti appartenesse realmente, ma nella vita precedente, nelle tue vite precedenti è come se forse se avessi scelto, Anna dobbiamo dire questo perché la tua anima mi sta dicendo questo, scendi in questa vita un po' come se avessi deciso di vivere, non dico questa sofferenza, però questa sorta di martire, non mi sorprenderebbe perché la nostra anima nel tutto non vive e non sa percepire queste intense emozioni, quindi a volte possiamo scegliere di amare tantissimo come di vivere una malattia infernale perché sappiamo di essere eterni e ce lo dimentichiamo però qui, quindi non ne diamo un senso, sei scesa in questa vita e quindi lo hai fatto anche nelle vite precedenti come martire, però adesso possiamo dire basta Anna perché basta tutto questo martirio, perché se lo hai scelto ora lo hai compreso, lo hai vissuto, quindi mettiamoci dietro nel passato una bella linea in terra e separiamo questo passato dove tu hai fatto tutte queste esperienze, scesa con questo concetto, le tagliamo, non vogliamo più che ci appartengono, le lasciamo nel nostro passato, quindi nel tuo passato e ritorniamo in questo presente non tollerandole più, come anima nuova, come se tu fossi una rinata ora con un nuovo concetto, un nuovo pensiero, un nuovo progetto di vita ed elimina questo concetto di martirio perché le sofferenze ti sono abbastate, non ne puoi proprio più, quindi in questa linea del temporale futura metti tranquillità, amore, armonia, pace e mettiamo la felicità perché devi pensare fortemente di essere rinata affinché il patto, cioè la promessa con cui tu sei scesa di fare una vita esperienziale di martirio non ti appartenga più, quindi un grande sospiro indietro con il passato, un taglionetto con tutto quello che è il passato, ma non il passato di Anna adesso, un passato che va indietro nel tempo, in tutte le vite regresse, abbiamo dato un taglionetto, sei rinata, rinata, immaginati come rinata e da qui in poi il tuo futuro si riorganizzerà rimettendoti in sesto e rifacendoti vivere questa vita nuova, questa nuova forma in una vita che non è più fatta di tanto dolore. Allora ragazze, io, allora direttamente sta per terminare, comunque Maria all'inizio ha preso il nominitario e dico leggere l'anima, allora Katia grazie per essere sempre di sostegno, se speciale, io ragazzi vi devo lasciare perché da me si è fatto proprio tardi, magari inizieremo una mezz'oretta prima, per dolore nelle mani, allora ragazzi io ho iniziato questa diretta subito prendendo le domande, ne abbiamo fatte tante, però sarò presto di nuovo qui con voi, quindi rimanete sempre connessi quando siete con me in diretta, risponderò alle vostre domande, presto mi organizzerò per avervi con me in diretta e quindi avervi proprio in audio, quindi proprio in diretta con me visivo e audiovisivo. Io vi saluto, vi ringrazio tutti, grazie di essere stati con me, siete sempre cari e per me vi ripeto come stare in famiglia, ho passato una domenica in famiglia, vi ringrazio, riproverò la prossima volta, un bacio a tutti e ci vediamo molto presto, grazie Katia, grazie a tutti, un bacio per chi è stato qui con me in mia compagnia, a prestissimo.